ciao a tutti vediamo il negozio oggetti di oggi cosa c'è di bello tornato the weekend durante weekend quasi è tornato the weekend vabbè lo conosciamo già non stiamo a vedere vediamo un pallettino che ahimè con musica protetta da copyright poi ci sono ancora i jujutsu come si dice color bando ombra di elefante questo è carino nobara e lui mi come mai sentiti allora qua che gli astronauti psichedelici il tipo del tipo che già vediamo qualche giorno quindi non mi soffermo più bella la mia skin comunque poi traccia gem le solite cose avatar va bene se ci otteniamo fino alla scadenza e la tipa verde carina questo cuore di pietra penso che ci fosse nella stagione quattro anche della disco e copertura glaciale poi abbiamo un po di robine qua belle queste ali picconazzo 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 simile bella zona maghi questo fa brutto e la tipa maghe con stili selezionabili poi i criminali con anche il deltaplano 4 che è simile a quello di mita belle queste ali poi picconazzo iperstellare tendenza tipo simile ninja mimetico bella questo cappellino omen che chi 2000 sono un po tantini sembra un personaggio famoso tra l'altro carino questo 800 per 800 bello stile quasi quasi uomo alberello c'è la tizia la tizia del deserto e la tizia delle nevi diciamole tutte così piccolino un ballettino bella simile al russo però 800 cacchio allora la tizia qua non leggono anche i nuovi scendala house famosi anni 60 70 quel che l'è picconazzo roba del pesce dove tracce gemma vabbè hanno rotto la riga anche un po rotto lego 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 l'avete già vista bundle adesso qui arriva qualcosa di nuovo attenzione pacchetto in carica di stella brillante 899 mille v bucks e io così quasi lo faccio anche se non è una skin che mi piace moltissimo ripeto preferivo qualcosa di più particolare con aspetto guerriero però le ali sono carine c'è poi rosa così un po dalla cassa ma bene ovviamente se dovete comprarlo se vi va mettete il codice creatore oggi guardate come si fa tac 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 gg cerca quel quadrato ed eccolo qua così supporterete il canale e me personalmente guardia nella galassia e salve al mondo lagos poi hanno schiaffati in fondo le macchine sono sempre le stesse da qualche giorno la prova del festival pass battaglia pass elementi io non lo faccio perché sicuramente sta skin non mi piace e la crew ciao a tutti bella lì